ma il primo di com'è? chi è meglio? no, il primo è vogliamo precisare il primo è è arrivato è arrivato è arrivato che si è arrivato ci siamo adesso ci sono che viene ancora lavorato e poi c'è arrivato è arrivato è arrivato è arrivato è arrivato è arrivato è arrivato ah, riscaldamento ancora oh oh luci oh, adesso sì adesso sì vai partita adesso? sì ok via 2-0 5-2 a 11 a 11 allora vada ok ma se non mi piace andare via prima 2-0 certo ah già ah già allora vado a te vai ahia scusami un po' ok Grazie. 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 Oh, adesso con la maglietta. Allora è tutta un'altra cosa. Grazie. Allora è tutta un'altra cosa. Allora è tutta una cosa. Allora è tutta un'altra 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 cosa.